Come è la delibera? Ci aspettavamo che per tempo venisse affrontato il problema net service, questo significa che doveva essere affrontato negli anni addietro, quando era possibile fare una fusione tra net service e ABC, cosa che non è stata fatta. Oggi ovviamente abbiamo a cuore le sorti di questi lavoratori perché per un fatto innanzitutto etico, sociale, siamo tuttavia molto perplessi che questa possa veramente essere la strada giusta per metterli al sicuro. Noi ci siamo astenuti per non fermare il passaggio dei lavoratori da net service in ABC che è stato votato all'unanimità con un ordine del giorno mesi fa. Siamo astenuti perché il percorso di passare tutto il servizio idrico integrato ad ABC è ancora fermo. Manca il passaggio degli impianti in ABC. Se questo non avviene dietro un piano industriale effettivo che tenga conto dell'equilibrio che deve mantenere ABC per i prossimi tre anni, almeno dal punto di vista finanziario, non si potrà chiudere il cerchio. E quindi l'operazione che viene fatta oggi potrebbe in un domani breve non avere seguito perché non si completa il ciclo integrato delle acque. Quindi il servizio idrico non può passare to cure ad ABC perché manca il pezzo delle fognature e degli impianti. Questo è la razza che sta dietro. Dopodiché noi ci siamo astenuti anche perché questa delibera sembrerebbe andare, anzi va in contraddizione con la delibera votata mesi fa, la delibera quella che era sulle partecipate relative alla legge Madia, che diceva che c'era la fusione di net service in ABC. Adesso quell'atto non viene annullato, l'atto che era la delibera 41 del commissario straordinario che poi è entrata nella delibera 33 votata in aula. Ecco, quest'atto non viene annullato ma come viene scritto oggi nella delibera viene integrato quest'atto con la messa di liquidazione nel service e il mandato ad ABC per verificare il passaggio diretto. Passaggio diretto che avverrà ovviamente per i lavoratori al loro decremento perché se fosse avvenuto con il secondo coma nell'articolo 173 avrebbero avuto un trattamento migliore dal punto di vista economico e contrattuale. Cosa che non avverrà perché dovranno per forza attenersi al primo coma che prevede delle parti peggiorative rispetto al proprio contratto. Per questi motivi ci siamo astenuti, non vogliamo fermare il processo ma vogliamo fermare dal punto di vista amministrativo e legale questi due atti perché non ci convincevano per i motivi che ho esposto prima.